ciao a tutti sono toby dell'olio vi do il benvenuto come sempre per il nostro mixing trick il nostro nuovo mixing trick che in questo caso è la prosecuzione il termine di quanto chi mi segue e spero abbia già guardato la prima parte di quanto abbiamo visto nell'episodio precedente quindi in sostanza parliamo di mastering io lo definisco quick mastering come ho detto nell'intro dello scorso video lo ripeto ora io non sono un fonico di mastering ma sono un fonico di mix questo non è un tutorial pensato per insegnarvi a masterizzare per imparare quel tipo di mestiere ma è un tutorial pensato per quelli come me e spero molti di voi siano nella stessa situazione cioè per fonici di mix che si concentrano sul mix e che mi auguro tutte le volte che possono collaborano con dei fonici di master di fiducia per questo secondo me è molto importante ma che però talvolta magari anche per motivi di budget o di velocità hanno bisogno di finalizzare i propri lavori o comunque direi ogni volta nel caso di qualunque lavoro è sempre importante riuscire a dare una prima finalizzazione ben fatta perché comunque è pur sempre vero che il nostro mix dobbiamo farlo ascoltare al nostro cliente il nostro cliente ce lo deve approvare oppure no chiederci la revisione insomma noi dobbiamo portare a termine il mix del brano con il cliente prima di andare in mastering quindi è chiaro che se il nostro mix è perfetto ma la nostra finalizzazione pronto ascolto quick master chiamatelo come volete non è il massimo rischiamo di dare un'idea non ottimale del nostro lavoro ma non per colpo del mix ma per colpa di una finalizzazione un po' abbozzata quindi credo che comunque questa questa parte di lavoro e queste tecniche che vi sto per far vedere chi vi ho già fatto vedere la volta scorsa e che porteremo a termine oggi credo possano essere molto utili ed importanti per tutti noi fonici di mix quindi io direi spostiamoci sul pro tools e riprendiamo il lavoro da dove l'abbiamo lasciato lo scorso mese e portiamo la termine insieme benissimo eccoci qua allora ripartiamo esattamente da dove c'eravamo lasciati la scorsa settimana allora scorsa settimana abbiamo perdonatemi lapsus lo scorso episodio quindi lo scorso mese abbiamo parlato di questo primo plugin il primo che abbiamo attivato vi ricordo l'ordine in cui vado ad intervenire ad accendere ad intervenire con i vari plugin non è corrispondente all'ordine in cui questi plugin sono in chain quindi l'ordine della cena ovviamente lo vedete dal monitor ma questo in ordine cronologico è il primo con cui abbiamo lavorato questo è il secondo con cui abbiamo lavorato di cui trovate tutti i dettagli nel tutorial dello scorso mese proseguiamo allora a questo punto forse avrei potuto farlo anche prima onestamente ma poco cambia direi accendiamo del nostro zone se vi ricordate ne avevo parlato il mese scorso abbiamo due moduli in gioco che sono uno stereo imager e un maximizer allora per ora lo stereo imager lo tengo spento accendo solo il maximizer che però riportiamo diciamo a zero cioè lo metto a qualche decimale un paio di decimali sotto lo zero di bfs in modo da evitare che magari con qualche piccolo guadagno e adesso sto per accendere questo plugin magari a un piccolo guadagno in termini di decibel per evitare dei clip insomma e onestamente questo lo potevate accendere anche in testa a tutto però lo accendiamo adesso così abbiamo il nostro brick wall limiter per ora posizionato a meno 0.2 cosa vuol dire vuol dire che noi stiamo lavorando continuando a lavorare già avevamo fatto nello scorso video e continuiamo a farlo per ora adesso sempre con la dinamica del mix originale allora vado ad aprire lui diciamo che di tutti i plugin visti finora lui è quello forse più tra virgolette da mix bass io vi ripeto un concetto importante anzi due di cui avevo già parlato la volta scorsa chi mi conosce sa che io non utilizzo bass compressor e non utilizzo bass q e ripeto voi mi vedete utilizzare processi sul mix bass nel caso di questo tutorial ma non mi sto contraddicendo non ho cambiato idea assolutamente ma per me quella roba qui deve essere non riguardante il mix ma riguardante il mastering quindi quando mixo quando da un multitraccia flat vado a creare un mix finito ordinato lo faccio sempre senza bass compresso di qualunque tipo monobanda multibanda che sia e sempre senza bass q di qualunque tipo sia additivo sia sottrattivi come in questo caso il mastering poi devo andare a limitare dinamica e banda passante e cerco di farlo nella maniera più delicata possibile diciamo che sono costretto a farlo in quanto ho la necessità di andare a raggiungere degli rms molto elevati comunque torniamo al nostro plugin questo è un bass compressor ssl g comp che io vado a regolare anche qui ovviamente ve l'ho appena detto nel modo più trasparente possibile come si fa a regolarli in maniera trasparente fosse nella parola giusta però diciamo nella maniera più conservativa possibile della dinamica cosa faccio vado a regolare il mio attacco il più lungo possibile quindi in questo caso 30 millisecondi il mio release il più corto possibile quindi in questo caso 100 millisecondi che vedete contrassegnato come 0,1 secondo ratio ovviamente la più bassa disponibile oddio io ho lavorato in passato molto anche con l'hardware e comunque mi è capitato anche con dei plugin software che avessero a disposizione che avevano a disposizione anche l'uno e mezzo a uno io ad ogni modo comunque qualora fosse disponibile nel vostro plugin forse mi sono espresso ma non la più bassa possibile secondo me 2.1 di ratio è la misura giusta per il lavoro che dobbiamo fare e poi cosa vado a fare come vado a regolare questo compressore beh io vorrei ottenere circa 3 decibel di compressione quindi prima regolo il makeup game a 3 e poi vado a regolare la threshold dal tutto aperto ok da qui vado a girare in questo modo fino a che non ottengo ad orecchie ovviamente lo faccio non uso nessuno strumento di misura in questo caso finché non vado ad ottenere più o meno la stessa pressione sonora quindi cerco di regolarlo come si direbbe in unity gain sentite ve lo faccio sentire in più di un punto della canzone comunque sentite l'effetto di questa compressione allora beh non è un plugin completamente trasparente un pochettino si sente però ecco diciamo che in linea di massima cerco di fare in modo che lavori in maniera più trasparente possibile che si senta almeno possibile dove la canzone suona forte perché così dove la canzone suona piano qui la differenza è notevole quindi io vado letteralmente a comprimere la dinamica della canzone non tanto per ottenere punch sui transienti piuttosto che robe del genere quello onestamente si ottiene in altro modo in mix ma per uniformare la dinamica fra le varie sezioni del brano quindi indicativamente io vi direi con questi settaggi che vi ho fatto vedere e con circa 3 decibel di compressione quindi ripeto anzi ve lo faccio in tempo reale immaginiamo di partire no dal nostro settaggio di default quindi il threshold tutto aperto ok il nostro make up gain a zero io mi adopererei in questo modo prima do il guadagno di decibel che corrisponde alla quantità di decibel che voglio andare a ridurre e dopodiché mi prendo una sezione della canzone e vado a comprimere fino a che non ritorno più o meno il volume di partenza di partenza intendo dire della traccia senza il compressore semplicissimo ripeto ancora una volta attacco lungo, release veloce è quello che vi consiglio per avere un'azione ma in questo caso il più trasparente e conservativa possibile per quanto riguarda la dinamica ma anche per quanto riguarda la risposta in frequenza se no cominciate a perdere in alto se cominciate a mettere degli attacchi veloci che comunque si usano o magari auto release vanno bene, si usano sono interessanti in alcune circostanze per chi ama mixare dentro il compressore io non sono fra questi ma un sacco di fonici che mi piacciono onestamente lo fanno ottengono dei risultati bellissimi insomma tutto si può fare però in un'applicazione da mastering su mix già fatto io andrei su dei settaggi un po' più trasparenti tutto qua una volta che abbiamo settato la compressione andiamo ad accendere l'ultimo stadio di compressione che praticamente che cos'è un multimanda che mi va a lavorare dai 100 hertz in giù quindi le basse e diciamo dai 100 più o meno fino ai 700 800 quindi tutta la zona delle medio basse se voi fate un attimo un recap anche e soprattutto lo dico a chi ha visto e mi ha seguito nel primo episodio di questo tutorial quindi nello scorso trick e ovviamente chi non l'ha fatto lo invito se lo desidera a farlo per avere una visione completa del tutto noi abbiamo compresso con questo plugin le medio alte con questo plugin tutto con questo plugin che adesso attiveremo andremo a comprimere medio basse il rosso e basse il viola quindi se voi ragionate sul in sostanza con lui e lui abbiamo compresso in maniera indipendente quindi in multibanda le basse le medio basse le medio alte vi ricordo questa è una compressione in parallelo e queste compressioni su queste tre bande quindi abbiamo compresso praticamente in maniera individuale settaggi diversi eccetera eccetera tre su quattro di quelle che sono le bande dell'audio io l'audio lo immagino sempre diviso in quattro parti medio basse basse scusatemi ve lo dico al contrario basse medio basse medio alte noi abbiamo compresso le basse abbiamo compresso le medio basse abbiamo compresso le medio alte non abbiamo toccato le alte le alte non hanno valore retico non vale la pena comprimerle e concorrono a diciamo la bellezza e l'ampiezza dell'immagine sterile quindi secondo me non ha senso comprimerle queste tre quindi la parte in multibanda di compressione quindi queste tre bande basse medio basse medio alte le andiamo a comprimere prima di andare nel compressore che invece va a comprimere tutto e questo secondo me è interessante perché è come quanto meno nella mia visione diciamo del percorso audio è come se questo e questo quindi questi due plug in andassero ad accompagnare e a favorire il funzionamento di questo terzo stadio di compressione vi faccio sentire cosa accade qui con questo che è l'ultimo in ordine cronologico stadio di compressione che andiamo ad applicare ad attivare ma che in ordine di chain è posto come secondo plug in come potete vedere a video allora il mio obiettivo non è quello di comprimere per ridurre anche perché stiamo parlando di basse compresse 0,75 decime medio basse compresse 0,71 quindi veramente pochissimo è sostanzialmente un in maniera molto molto leggera come avete visto andare a mettere leggermente sotto controllo due bande che sono quelle che occupano a livello elettrico più spazio e il tutto poi in pratica ad orecchio si traduce in una sensazione di maggior definizione maggior pulizia maggior migliore messa a fuoco e questa cosa qua secondo me è fighissima perché avete proprio se vi piace a me piace il sound modern super più modern che ci sia quindi più tutto è ordinato preciso messo a fuoco separato più mi piace e quel plugin qui va esattamente per me in quella direzione qui vi faccio sentire ancora la B sentite come ma io lo sento chiaramente in cuffia come lo sento altrettanto chiaramente quando sono con il monitor del sub sentite come tutto va un pizzico ovviamente più a fuoco mi sembra quasi di sentire anche la musica un pizzico più forte ed invece sto abbassando perché sto comprimendo basse medio basse e in più di un nulla di zero di due decimali ma ho pure abbassato leggermente il volume quindi sto scendendo elettricamente di pochissimo ma sto scendendo e tutto sembra che venga un pizzico avanti questa cosa è molto interessante secondo me una volta fatto questo siamo adesso adesso siamo pronti e infatti io l'ho appena fatto per dare quei famosi 4db che erano i 4db lo vedete qua in questa cifra qua in basso a sinistra vi ricordo che questa adesso in questo tutorial non l'ho ancora accesa fra poco l'accenderò per fare la b finale ma ho spiegato tutto nella parte 1 di questo tutorial questa traccia è il mastering ufficiale che è quello della release del brano e che è quello che potete trovare anche se andate ad ascoltare il brano finito sul mio sito è questa traccia quindi è masterizzato in questo caso da Giovanni Versari fonico di mastering con cui collaboro spessissimo e che ammiro moltissimo e a cui affido tutti i miei lavori questo è il suo master e l'ho abbassato di un numero di una cifra precisa non è casuale questo meno 4db non sono andato ad orecchio per me ci deve essere un controllo della struttura del gain dal primo colpo di cassa e di rullante quando si inizia a mixare fino al master infinito questa è una cosa su cui come ho già detto e lo ripeto insisto moltissimo con tutti gli allievi che si rivolgono a me che seguo direttamente con i miei corsi di mix e secondo me il gain staging è la cosa più importante come dico sempre non è la cosa più importante del mix il gain staging è il mix io di questo sono assolutamente convinto quindi questo è il valore esatto che separa 4db tutti i miei mix sono confezionati per suonare esattamente 4db meno di un qualunque master commerciale di un qualunque brano finito che ascoltate su spotify quindi per qualunque delle mie finalizzazioni quick master come l'ho chiamato in questo caso io so che devo andare ad aggiungere 4db come avete sentito adesso ve lo faccio risentire la differenza tra il limiter innanzitutto io utilizzo e vi consiglio di farlo quasi tutti i limiter ce l'hanno questa funzione di link fra il ceiling e la threshold io abbasso ok adesso potrei andare a comprimere 20db come potrei non comprimere nulla tutto ciò che viene compresso che viene in questo caso massimizzato quindi alzato di volume viene compensato all'uscita quindi io sono in unity gain in sostanza ascolto il mio mix a dinamica piena ascolto il mio mix con 4db di picco in meno quindi di range dinamico in meno il volume è identico e come sentite e questo è un lavoro che chiaramente va confezionato al 90% in mix e dopodiché quando si va in master chiaramente si va di conseguenza a fare tutte queste piccole operazioni che abbiamo visto con i plug-in che vi ho fatto vedere per massaggiare ulteriormente la traccia e prepararla a questa cosa il mio mix è stato preparato come se fosse un compito di matematica in maniera numerica precisa a sopportare in modo trasparente quindi senza effetti collaterali l'aumento di db necessario per arrivare a un volume di master quindi in sintesi io quando scendo col mio slider di 4db il mio mix suona praticamente identico a prima e questo secondo me è fondamentale perché il gioco sta proprio lì la bravura dal punto di vista artigianale io dico sempre il nostro lavoro di fonici di mix è secondo me ovviamente per metà artigianale e per metà artistico io da un lato devo essere in grado di tenere sotto controllo tutta una serie di parametri di conoscere tutta una serie di tecniche per fare in modo che il mio multitraccia venga mixato in questo caso anche masterizzato in modo da suonare forte e bilanciato come tutte le altre canzoni del mondo ma nel modo più pulito e di qualità possibile quindi con la risoluzione audio migliore possibile quindi è esattamente quella roba qui che dobbiamo ricercare dobbiamo arrivare alla destinazione cioè le rms uguali a tutte le altre canzoni dello stesso genere ovviamente che trovate su spotify nel modo più pulito possibile vi aggiungo e ormai siamo in conclusione l'ultimissima cosa allora un po' anche in funzione soprattutto sua quindi un po' in funzione dell'aver compresso in maniera tradizionale quindi questo è un compresso io con questo tipo di compressione vedete le alte e le basse non le vado a comprimere qui ho toccato come ho già detto solo medio basse basse quindi le alte non sono mai state compresse vengono compresse solo qui questo compressore come vi ho già spiegato vi ho fatto sentire mi serve per dare quell'uniformità di volume a tutta la traccia ovviamente qualunque tipo di compressione tende a scurire leggermente in alto e chiudere leggermente l'immagine stereo quindi per ottenere il risultato di stereofonia di ampiezza che mi piace e che sento nei lavori commerciali che mi piacciono di più vado ad accendere quest'ultimo plug in ricordatevi guardate bene a video l'imager io lo accendo dopo il maximizer in ordine cronologico ma in ordine di chain sta ovviamente prima il maximizer deve essere l'ultimo plug in e cosa faccio beh come sempre mi verrebbe da dire anche qui lavoro in multibanda quindi utilizzo questo modulo di stereo imaging dello zone che mi permette di vedete che io ho già le quattro bande basse io basse medio alte io vado a lavorare innanzitutto solo sulle alte quindi banda 1 banda 2 banda 3 non mi interessano lavoro solo sulla banda 4 che vado a vedete qui con questo cursore vado a puntare circa ok accesa sono mezzo cieco abbiate pietà che vado a puntare circa 1500 quindi 1500 in sostanza cosa sto facendo da 0 a 1500 hertz non cambia nulla il mix esattamente come prima dai 1500 in poi vado ad applicare un'espansione del size quindi vado ad allargare l'immagine stereo e di questa cifra adesso come molti stereo imager non c'è un valore che riflette dai db quindi non sto dando 48 db o 4 4,8 questo 48 è un numero che corrisponde alla sua scala che va da 0 non mi ricordo più fosse 100 sì esatto che va da 0 a 100 però ecco per chi dovesse utilizzare questo plugin io vi posso dire che normalmente so sempre attorno ai 50 per chi non dovesse utilizzare questo plugin poco cambia allargate lo stereo fin tanto che vi piace il risultato e fatelo però anche perché stavo dicendo fatelo però in multibanda solo sulle dalle medio-alte in poi quindi medio-alte alte perché se andate a lavorare in mid-side full range cominciate a perdere il basso perdere il rullante a perdere un po' di voce perché ricordatevi che il grosso della voce normalmente sugli 800 1000 Hz quindi io lascio che i quattro strumenti la cassa il rullante il basso e la voce si esprimano prima dell'utilizzo dello stereo major per evitare problemi di fase per evitare perdita di presenza quando vado in mono eccetera eccetera voglio solo che la parte più bright del mio mix si allarghi un pochettino sentite il risultato parto come sempre dallo spento e poi accendo mi piace adesso questa è una canzone dove la parte bam bam tom 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 quella specie di synth distorto quella via di mezzo fra un sintetizzatore una chitarra la sento molto più avvolgente sui side quando vado ad aprire questa cosa qui oltretutto mi fa anche gioco perché al di là di qualunque considerazione comunque mi tira su ancora un pochettino il volume e la presenza della traccia quindi ho ancora un po' più di presenza e contemporaneamente ho un panorama stereo più largo a questo punto io ho finito con il mio master vi faccio sentire un piccolo paragone con il master ufficiale quindi la traccia di partenza facciamo un po' di ab partiamo dall'originale scusate mi celeco ve lo dico col tasto acceso ve lo ricordo l'avevo già detto nella parte 1 nel precedente tutorial ma ovviamente lo ripeto anche adesso quando vedete il tasto questo quando vedete il tasto verde attivato è il mio master quando vedete il tasto verde spento è il master di riferimento quindi quello ufficiale quello di Giovanni è il nostro mi piace direi che siamo andati sufficientemente vicini al nostro reference come vi dicevo nel precedente video è un reference di tutto rispetto e diciamo che io ho concluso come vi dicevo nell'introduzione del primo video questo non è inteso per quanto mi riguarda per come chain per andare a sostituire il master in questo caso fatto da versari mi piace collaborare con altre persone mi piace l'idea che il mio mix venga preso in mano da un altro fonico messo in discussione se l'accanto me la suono solo però è altresì vero che come vi dicevo per un fonico io sono un fonico di mix e non un fonico di mastering però io ho la necessità di consegnare al mio cliente un mix che poi deciderà se va bene non va bene mi chiede delle modifiche me la prova devo consegnare un mix finito quindi avere una catena di mastering che funzioni abbastanza bene in questo caso come avete visto secondo me più che abbastanza bene e che vi permetta di finalizzare un lavoro in modo da dare un pronto ascolto finito al cliente secondo me è fondamentale poi ovviamente a seconda del progetto in cui siete coinvolti del budget che c'è del modo in cui vi piace di più lavorare e deciderete voi poi se affidare il mastering finale ad un altro fonico oppure no io vi ho già detto la mia opinione ma quello che è importante secondo me è che con questa chain con questi 5 tutto sommato semplici plugin ovviamente a parte di avere un mix ordinato in partenza quello è fondamentale noi riusciamo a finalizzare il nostro lavoro a portare con i livelli giusti con un sound professionale a molto vicino a quello che è il reference di un qualunque brano finito masterizzato in uno studio professionale quindi io spero di avervi dato nella maniera più semplice e lineare possibile l'idea di quella che potrebbe essere una catena di mastering semplice per l'appunto ed efficace sperimentatela fatemi sapere come vi trovate io intanto vi augo buon mix o forse in questo caso dovrei dire buon mastering e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti